Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In Fipili è entrata chiusa per lavori a Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Da domani mattina fino al 30 maggio al via la fase 2 del cantiere tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. Sarà attivo il doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Firenze e sarà chiusa quella verso mare. Lo svincolo di Montelupo Fiorentino sarà chiuso sia in entrata che in uscita in direzione mare e in entrata in direzione Firenze. In A1 in direzione Bologna chiusura i mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bivio con la variante di Varico Baccheraia e Aglio. Possibili disagi per un incidente al chilometro 363-300 tra Monte San Savino e Arezzo. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!